Buon mercoledì 20 dicembre. Ieri, conversando con Loredana, Alina, Nevanna, abbiamo messo in evidenza e cercato di porre e sviluppare delle domande relativamente al tema che sto per narrare e che riguarda la questione alcologica. I club sono nati molto tempo fa e si sono caratterizzati per un'attenzione nei confronti in primis dell'alcolismo. Hanno cercato egregiamente di affrontare il tema del trattamento delle problematiche correlate dell'alcolismo, facendo anche la fatica, di scomprare il campo da concetti come dipendenza, sindrome di dipendenza alcolica, alcolismo visto come malattia. Eppure, nonostante questo impegno, questa presenza, questa testimonianza nella vita della comunità locale, persistono i temi dell'alcolismo, dell'alcol dipendenza, della malattia alcolica, sia in ambito professionale ma soprattutto nell'ambito della cultura, della comunità locale. Quando c'è una ricaduta perseverante, a volte fin dall'inizio della ricaduta, si invoca l'invio a specialisti che abbiano strumenti farmacologici, o si chiede che la persona, che voglia o no, sia rinchiusa in qualche struttura riabilitativa previa fase di disintossicazione dall'alcol. Guardate, questo schema non è stato scalfito dai Klepper, perché ovviamente l'alcol etilico, essendo consumato legalmente con qualche vincolo occasionale, la guida, un modo del lavoro, suggerimenti per le persone che vivono una condizione biologica particolare o assumono farmaci, gli si dice sì, tu dovresti smettere, ma questa deve essere una condizione che è sovradeterminata da una prescrizione medica o circostanziale, la guida, il lavoro, ripeto, ma mettere in discussione il comportamento del bere sembra quasi impossibile. E discutendo ieri abbiamo preso atto che effettivamente l'allargamento dell'interesse dei Klepper nei confronti dell'ampio spettro del disagio spirituale, cioè dell'incapacità di accettare se stessi alle condizioni date, è reso particolarmente difficile quando si entra nel merito del consumo delle bevade alcoliche. I Klepper giustamente possono accogliere tutti e tutte, soprattutto in virtù del fatto che sono testimonianza di una visione ecologica, radicale, profonda, integrale, un'ecologia sociale, antropo-spirituale, che ha a che vedere con il tentativo di fronte a un aspetto sintomatico del disagio spirituale, che ciascuno che si è coinvolto in un sistema relazionale nelle quale si esprime il sintomo del disagio, si è invitato a mettersi in discussione. È evidente come il tentativo culturale di confinamento dei Klepper ad un ambito specialistico continua a perseverare, tanto che nel momento in cui una parte significativa dei Klepper hanno deciso di cambiare nome, club alcologici territoriali, i media ne disconoscono la presenza, la omettono quando c'è necessità di aprire un dibattito sulle problematiche alcol correlate, i media preferiscono rivolgersi a chi ha schematismi molto più semplici, alcolisti anonimi in primis, esperti, professionisti, i quali riescono in qualche modo a dimostrare che l'alcolismo esiste, è una malattia evacurata, anche con periodi di ricovero prolungati. Guardate che il vecchio concetto di malattia cronica recidivante del cervello non è stato assolutamente eradicato dalla cultura generale esistente e il respingimento relativamente a riconoscimento fecondo nelle comunità locali dei Klepper nasce proprio dal fatto che i Klepper, pur occupandosi anche di alcol, hanno osato porre le basi per una messa in discussione radicale dello stile di vita della popolazione e soprattutto cercando di liberare l'umanità dal processo di distinzione tra normalità e devianza. Immaginiamo che un'associazione di Klepper o un singolo Klepper si presenti a un consesso nel quale si ritrovano molte associazioni, ognuna delle quali si occupa di cose specifiche. Immediatamente verrà chiesto, ma voi di che cosa vi occupate? La risposta corretta dovrebbe essere, ci occupiamo del disagio spirituale, ma cosa significa? Di che cosa vi occupate? Ancora persisterebbe la domanda e a quel punto siamo costretti a raccontare la storia, siamo partiti dall'alcolismo, abbiamo cercato di superare il concetto di alcolismo come malattia, abbiamo addirittura tolto il nome dal nostro processo identitario, il nome alcolismo. Oggi ci chiamiamo Klepper Ecologici Territoriali, alcuni addirittura si chiamano Klepper di Ecologia Familiare, altri ancora Klepper di Ecologia Sociale e addirittura vi è chi aggiunge Antropo Spirituale, con titubanza, perché immediatamente la parola spirituale nella cultura dominante porta a immaginare un movimento religioso. Per carità, anche la religione ci può stare, la fede, in fondo esistono anche religioni laiche, che fanno riferimento a un sistema valoriale, e esprimono fedeltà a un disegno politico-culturale. Ma lasciamo perdere tutto questo, anche se naturalmente è molto importante. Ebbene, di fronte a quella domanda, di che cosa vi occupate, anche quando facciamo una corretta narrazione evolutiva del sistema dei club, magari possiamo anche essere guardati con un certo rispetto, ma dov'è che si coglie la contraddizione? Se a fine di quell'incontro con, appunto, un sistema complesso associativo che si occupa di molteplici aspetti dei disagi umani, delle sofferenze umane, o anche di promozioni ecologiche, alla fine di quell'incontro si è stabilito di fare un momento conviviale. È obbligatorio la presenza di una bevanda alcolica. Quelli dei club non bevono, gli altri bevono, e se viene chiesto, ma perché voi non bevete? Siete alcolisti? E lì inizia la difficoltà della spiegazione. Magari, molte di quelle associazioni sono inclini a condividere l'aspetto della stigmatizzazione, del superamento, delle categorizzazioni. Magari sono anche aperte alla queer, all'LGBT+, al sistema di garanzia dei diritti per le persone che vengono da altre culture di paesi. Lottano per evitare i respingimenti che nascono da una visione razziale dell'esistenza umana. Ci sono le razze diverse, stupidaggine grande come una casa, ma che continua a essere presente soprattutto nell'attuale sistema di governo del paese. Si dichiarano non razzisti, ma sotto sotto, fanno passare dei messaggi che svelano un'idea di suprematismo e sovranismo attraverso il localismo esasperato. Chiudo a parentesi relativamente alla questione politica, qui comunque nasce la difficoltà culturale, politica, perché tutte le persone che pensano di essere particolarmente evolute, con un pensiero anche ecologico, a parole, sono molto disponibili ad accogliere la diversità, non categorizzarla, non stigmatizzarla. Ma quando si tratta del comportamento, del consumo, delle bevande alcoliche, immediatamente riscatta la distinzione tra quelli che possono bere e quelli che non possono bere. I primi, quelli che possono, hanno la virtù di essere moderati. Chissà poi cosa vuol dire essere moderati. Quelli invece che non possono bere, vabbè, quelli hanno esagerato, per cui è bene che smettano di bere. Vedete, in un comportamento banale, come il consumo delle bevande alcoliche, le forme di teorizzazione e di interpretazione della cosiddetta devianza e cosiddetta normalità, in quel comportamento si svela una verità relativamente a quello che veramente pensiamo, quello che è nel nostro cuore, è nelle radici delle nostre azioni. Noi, che lo vogliamo o no, che dichiariamo o no una nostra disponibilità nei confronti della accoglienza della nostra stessa devianza e della messa in discussione di questa devianza, direi tutto questo, immediatamente, in quel passaggio del consumo delle bevande alcoliche, veniamo immediatamente confinati o nell'area proibizionista, voi vorreste impedire di bere alle persone dunque siete proibizionisti o nel mettere in discussione l'intero sistema del comportamento del bere da parte dei proibizionisti implica un giudizio radicale nei confronti del club che vengono automaticamente respinti. Mi riferiscono a quelli che si sbracciano legiferando sui rave party e contemporaneamente legiferando legiferando per salvaguardare i ricchi imbroglioni i proibizionisti a corrente alterna i quali sono contro le droghe ma promuovono il vino non dobbiamo mettere le etichette questa è la grande contraddizione non so se sono riuscito a spiegarvi non è facile eppure spiegare razionalmente quello che accade perché è un meccanismo profondo culturale psicologico di antropologia spirituale di fronte al disagio la questione alcologica ce lo descrive molto bene Gregory Bateson nel saggio Cibernetica dell'Io e Teoria dell'alcolismo la questione alcologica svela quello che veramente pensiamo relativamente alla questione di normalità e devianza perché l'alcologia interpretata secondo la visione dei club qualunque sia la denominazione superando il concetto di alcolismo come malattia estende questo superamento all'intero campo dell'esistenza umana proviamo a pensarci guardate io non ho una risposta su come fare come che possiamo promuovere l'immagine dei club come possiamo mettere in evidenza la testimonianza dei club accogliente ma non genericamente accogliente come una forma caritatevole di volontariato no accogliente perché accoglie dell'altro come un perturbante che prima di tutto ti mette in discussione relativamente a te stesso e con il quale costruisci relazioni virtuose ecologiche sociali antropo spirituali relazioni vere autentiche che non portano a nessuna forma di collettivismo identitario ma portano attraverso il rispetto della persona nella sua potenzialità di accedere al sacro che non è proprietà di nessuno ebbene facendo tutto questo quello che manca oggi è e credo che non sarà facile farlo investire risorse per trasformare radicalmente la cultura esistente e questo si riverbera anche nel nostro rapporto con le istituzioni di che cosa vi occupate quella domanda semplicemente ci occupiamo del creato mettendoci al servizio al di là di qualsiasi tentazione categoriale identitaria che significa stigmatizzazione ci occupiamo del nostro rapporto con il creato del quale siamo giardinieri e pastori servitori altro tema è un gruppo di autoaiuto o c'è qualcuno che conduce non è un gruppo di autoaiuto non c'è nessuno che ha il compito esclusivo di condurre ognuno è protagonista e c'è un facilitatore che si chiama servitore insegnante apriti cielo a quel punto chi è un professionista non è un professionista che cosa deve fare e ancora risorcerebbe la domanda ma allora voi che cosa fate perché non brindate insieme a noi siamo in prossimità delle feste sarà l'ultimo giorno dell'anno che bello brindare insieme eh ma l'alcolista lo può fare o no eh no lui no rinasce ancora una volta la stigmatizzazione mi rendo conto di avere occupato il tempo questa mattina in una riflessione confusa ma che riflette la confusione che c'è in questo momento come in ogni tempo del resto nella cultura esistente e dominante che fa molta molta fatica ad accogliere la diversità dell'altro e dell'altra al di là delle grandi teorizzazioni che ci raccontiamo dobbiamo pertanto siamo alla fine dell'anno ritornare alle radici della nascita dei club ritornare a quella rivisitazione critica nei confronti della malattia mentale dobbiamo avere il coraggio di fare questo senza escludere nessuno aprendo un dialogo anche con le professionalità specialistiche che affermano di occuparsi di malattia mentale in realtà dovrebbe preoccuparsi di salute mentale che non è compito esclusivo di un'area specialistica medica che si chiama psichiatria anche questa e sicuramente farebbe molto bene alla psichiatria aprirsi rinunciare definitivamente al mandato di controllo sociale aprirsi alla necessità di avere di avere un'organizzazione democratica autentica fatta di relazioni comunitarie non di gerarchie egemoniche che nascono dalle presunzioni del sapere abbiamo bisogno di reinventare nuove forme espressive della salute mentale che riguardi anche il mondo professionale la sociologia la psichiatria la psicologia i sistemi di assistenza primaria l'ambito specialistico di comunità medico e anche le discipline giuridiche ma perché no anche la letteratura umanistica anche e soprattutto la dimensione filosofica che dovrebbe essere il punto di sintesi attraverso una rilettura critica del nostro modo di pensare la filosofia è aperta al sapere si costituisce senza alcuna pretesa di definire una volta per tutte un dogmatismo interpretativo vedete quante belle cose potremmo fare a partire da un incontro conviviale tra diversità associative riflettendo sulla questione alcologica buona giornata a tutte e a tutti grazie 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 grazie